kit pulizia esercito svizzero ex dotazione anni 80 90 questi kit sono contenuti in una custodia con una fettuccia di tessuto costruita in tessuto di gomma molto resistente si svolge e ci appare una serie di tasche e accessori questi kit purtroppo sono dismessi per cui ognuno può avere differenti accessori in quanto possono essere stati personalizzati dai militari vediamo in questo abbiamo una tavoletta in legno acuminata probabilmente per pulire e togliere i sassi sotto gli anfibi poi una spazzola legno e setola sintetica credo un'altra spazzola sempre in legno delle scritte una terza spazzola o in queste tastine centrali troviamo un set da cucito col filo bottoni una pezzuola di tessuto bianco nell'ultima parte troviamo un tubetto di crema per trattamento del cuoio una spugnettina ruvida per pulire per abradere per togliere lo sport poi qua abbiamo uno spazzolino con protezione uno spazzolino e un altro suo omologo spazzolino sempre con protezione poi abbiamo uno spazzolino con protezione per il cazzo